Ma lo sai che l'ho sognata stanotte? Era un sogno bellissimo. Ma poi ho capito molto bene. Lei era mio nonno. Eh, ecco. Pronto? Mamma, non ha male come? Una cosa abbastanza grave. Oh, buongiorno, signore. Ciao. Ma non niente, sai. Sono un abbassamento di pressione. Ma tu mi telefoni sempre. Non è possibile. Tu sei il mio problema principale, mamma. Ciao, ciao, ciao. Grazie. Grazie, eh. Grazie. Un vecchio motore abbandonato per anni ha rugginito. Ci vuole tempo, poi, per chi possa cominciare a battere, capito? Basta, ricordi, basta passato. Più per anni. Mi sono chiesto perché non hai sposato Valeria. Perché sei un idea. Ho visto che... Mì chi? Eh? Mì chi? Eh? La gamba, mi. Dai, Gianni, dai. Ma me li lasciami così. Mamma, ma che vuoi a quest'ora? Che c'è? 37 e due, non è in febbre. Dai, Gianni, dai. Grazie a tutti.